A distanza di 17 anni si chiude il contenzioso tra Eni e Comune di Pineto con la vittoria dell'amministrazione, oggi guidata da Robert Verrocchio. La Suprema Corte ha deciso che Eni deve corrispondere al Comune di Pineto-Lici relativa agli anni dal 1993 al 1998, notificata al Colosso Petrolifero Italiano tramite un accertamento risalente al 1999, secondo la sentenza destinata a fare giurisprudenza e quindi a costituire un precedente per altri comuni italiani. Le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'imposta ICI e sono classificabili in categoria D7. Per tanti anni la battaglia è andata avanti con il presupposto che queste piattaforme non fossero accatastabili. Oggi la Cassazione invece ribadisce che le piattaforme sono accatastabili e che il valore imponibile sul quale poi va calcolato l'ICI fa riferimento ai valori contabili. Sono svariate decine di milioni di euro oggetto di accertamento, di ricorso, di interesse eccetera, però adesso non abbiamo contezza di questo importo. L'ENI cita la legge di stabilità ma la Cassazione si è pronunciata su questo, per cui per quanto riguarda questo giudizio vige il giudicato della Cassazione. Per quanto riguarda gli altri giudizi vedremo come e se è applicabile la legge di stabilità in relazione alla pronuncia della Cassazione che farà, se non stato, avrà il valore di principio anche per gli altri giudizi.